Io prima stavo parlando di un brano che mi faceva ricordare Abbo e che ha scritto chiaramente il maestro e si deve dire qualcosa su questo brano, quando si parla di attualità dei brani, quando si dice che alcuni brani, alcuni testi, un modo di scrivere un cantatore è anacronistico, andiamo un attimo a vedere di cosa sta parlando, andiamo un attimo a vedere cosa sta trattando, perché è fatale, è drammatico per tutti noi che questo brano sia tremendamente attuale, tremendamente attuale. Signori e signori, per tutti voi il Vaggio è l'amore. Un vecchio e un bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera, la polvere rossa si alzava lontana, il sole brillava, di luce non vera, immensa pianura sembrava arrivare, fin dove l'occhio di nuovo poteva guardare e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il poteva guardare e tutto d'intorno, i torri di fumo. I due camminavano, quel giorno cadeva, il vecchio parlava e il piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di metti passati. I vecchi subiscono le ingiunie degli anni, alzano distinguere il vero dai sogni, i vecchi non sanno del loro pensiero, seguono i sogni, il falso davvero. L'anima Come diceva, guarda lontano, immagina colasco un po' di grado, immagina frutti di lontano, immagina frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di lontano, immagina frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di lontano, immagina frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di lontano, immagina frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di dei iniziato a vivere Hypnoku il mattino running se lo sensationnia frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di lontano, immagina frutti di pazzesco un po' di grado, immagina frutti di pazzesco un po' di oggi è il Messina, perché di oggi non miyalgia laitesco un po' di grado, dicono il bardzo supportive di importante, in realtà mi machine è surrealistico un po' di grado, Grazie a tutti